Capitano Scarponi, avete trovato l'autore, il proprietario di quel furgone carico di armi, quel vero e proprio arsenale, trovato in una traversa dell'ufficio postale di Via di Sotto a Pescaracolli lo scorso anno. Sì, questa mattina i carabinieri della compagnia di Pescara hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Misso. Misso, attraverso una prova del DNA che è stata estratta dalle armi trovate all'interno del furgone, e è stato accertato che era il soggetto che aveva maneggiato le armi. Le armi furono trovate dentro un furgone parcheggiato vicino all'ufficio postale di Via di Sotto il 3 febbraio del 2014. All'interno c'era un vero arsenale. Tra l'altro Misso è un volto noto alle forze dell'ordine perché in passato era stato protagonista anche di assalti a portavalori, oltre che dell'omicidio di un carabiniere a Genova nel 1977. Misso purtroppo è un personaggio ben noto qui e in altre zone d'Italia. I reati che ha commesso sono state una serie impressionante di rapine. Qui a Pescara era stato arrestato in un'attività congiunta con la polizia per un assalto a un furgone portavalori e per una rapina consumata a un distributore di benzina. I colleghi di Monza invece hanno contestato a lui e ad altri 11 sodali una serie impressionante di rapine, ben 14 commesse in pochi mesi.